Ho spiegato che ho voluto organizzare questo convegno sugli investitori esteri dopo il MIPIM perché volevo capire un po' che cosa poteva essere successo al MIPIM e che sensazioni avevamo avuto. Io ho avuto l'opportunità di vivere il MIPIM all'interno del tuo stand con la mia televisione e ho visto un gran movimento di investitori, di gente, ho colto l'impressione che forse qualche cosa si stava muovendo, che forse gli investitori potevano essere interessati al mercato italiano. Tu invece che eri presente in questi incontri qua e quale sensazione hai avuto? Intanto non è il mio stand, ma è lo stand di Prelios, di cui in questo momento sono senior advisor. Sì, in effetti sono rimasto sorpreso anch'io, nel senso che cercavo di capire come mai abbiamo, pur avendo mandato delle mail di invito personali venerdì pomeriggio, quindi a quattro giorni a meeting, abbiamo avuto 82 persone, tutte le due elevato, se non elevatissimo standing. Poi in realtà, devo dire che il motivo me lo sono chiarito nel tempo, erano interessati agli asset tedeschi e non agli asset italiani, ma questo non fa niente, non dato di fatto. Ma guarda, adesso parte la battuta che però purtroppo è veritiera, devo dire che parlare per ultimo, mi ha dato il vantaggio di sentire quello che i colleghi hanno detto prima di me, e devo dire che le considerazioni sono abbastanza univoche, tranne alcuni positivismi, perché sì, mi dice Vittorio Annoni, mi racconta quello che fa in Italia, però voi state vendendo e non vi vedo i rinvestitori, cioè state uscendo dall'Italia, di fatto è noto perché c'è un bid pubblico, quindi voglio dire, sì, disegniamo un paese, però il tema è piuttosto complesso. Allora, per non fare la macchietta che scatena il casino, perché poi non è questo il contesto, non c'è nessuno a cui fare provocazioni, perché tanto continuiamo a vendere le ville sul Garda, adesso invece ci proporranno i carceri di Ischia, tutte cose molto interessanti, ma le abbiamo viste vent'anni fa. Cerchiamo di dare un contributo a quello che hanno detto i colleghi. Io condivido totalmente quello che dice Mauro Montagnere, noi non è che ci dobbiamo scandalizzare se una roba nel 2007 stava a 100 e oggi si compra a 50, io vi ricordo che ogni credito stava a 8 euro, oggi mi pare che stia a 2 euro, 2 euro e mezzo, 3 euro, qualcosa del genere, io ho le azioni di Montepaschi che stavano a 5,10 e oggi stanno a 0,20. Ho capito, finché noi pensiamo che il nostro guadagno, il guadagno dell'investitore, è dato dall'attesa, contrariamente al mondo tedesco, che questi immobili salgano all'infinito, qualcuno di voi forse tanti anni fa nel 2008, era una riunione dell'Abbia a Roma, non so se c'era qualcuno di voi dove si parlò di questo, ci fu una lite furibonda tra me e il mio amico Carlo Puri, perché Carlo diceva, stiamo sempre di più sulla terra, gli immobili possono solo crescere i valori, io non la penso così, è un ciclo e il ciclo prossimo sarà molto negativo, infatti noi non abbiamo livelleggiati i fondi nella società che amministravo, qualcuno li ha livelleggiati all'80% e il risultato si è visto, quindi abbiamo un problema oggi di repricing, ma attenzione, di repricing secondo me, che poi non ci sarà un repricing a salire, potrà salire ma probabilmente secondo indicatori del tutto diversi, qua c'è un momento che gli immobili salgono al 20% all'anno, di che stiamo parlando, e quindi dobbiamo abituarci a convivere su questa situazione, quando termina il repricing, attenzione, altra osservazione giustissima, i trofi asset sono spariti, cioè i trofi asset italiani sono spariti, o c'è qualche magheggio, qualche immobile che entra e esce, che si vende così, non c'è un patrimonio come agli inizi degli anni 2000 di qualità che si vende, che attrae il Catara, si viene a investire in Italia, ma si sa comprare immobili francesi, poi qualcuno gli chiede di mettere un obolo per Santa Giulia a perdere, ma non pensa proprio di comprare immobili italiani, tranne qualche albergo così come compra Valentino, può comprare un albergo, quindi abbiamo un problema complesso, che contrasta invece con un mercato che sicuramente c'è, che è quello molto più speculativo, chiamiamolo intorno ai distressed asset, io dico più distressed seller che distressed asset, motivi strategici. Come ne usciamo da questa cosa? Purtroppo bisogna dare al nostro sistema un po' di stabilità, sul prezzo, quindi vediamo che cosa sta accadendo, oggettivamente la roba che stava a 5 mila euro a metro quadro, oggi a 2005 te li vendono, non ci scandalizziamo, lui ha ragione, oggi gli stessi uffici li vendono a 2005, noi siamo pieni di mail, di soggetti vari che tentano in qualche modo di arrivare a fare una transazione, io credo che il nostro problema principale, oltre a quelli che abbiamo enunciato nelle riunioni scorse, normativo, chi vuole di quadro politico, io poi sul quadro politico mi sto facendo, l'ho già detto in un'altra occasione, l'idea che alla fine come comprano in Libano lo comprano anche qua, qui c'è un problema anche di qualità reale del prodotto, perché se è vero quello che ormai è generalizzato dall'efficienza degli immobili, i nostri immobili sono mediamente inefficienti, e chi è pronto a fare questi investimenti? Non lo so, io non so chi è pronto oggi, ho già citato il caso, sono sul mercato, gli immobili lasceranno i credito, cercano dei tenant, chi si era affitto con gli immobili oggi? Questo è il punto. È vero che c'è molta richiesta, noi abbiamo avuto, oltre a fare delle richieste, per esempio sui retail, sui department store, è venuto a parlare con noi il signore che si è comprato, il signore tenantese che ha comprato a Rinascente, lui si muove in un modo, però l'altra domenica sera non sono colpito da una cosa, ero a casa di amici a cena, e ho visto i cinque signore con tre iPad, che facevano? Si compravano i vestiti, io sono stato a guardare, finché compra mia figlia, si va a comprare le scarpe su come si chiama quella roba là, ce ne sono tante di siti, mia figlia ne usano un altro, non so quale, adesso me lo ricordo, questo signore, fascia medio alta, i vestiti tutti su internet, io sono rimasto stravolto, lo sono andato a vedere, ho scoperto che le scarpe di Todd costavano il 25% di meno, i vestiti erano tutti di marca, eccetera, eccetera, quello che dicevi tu dei negozi virtuali, ho detto scusate ma tra dieci anni al negozio non ci va più nessuno, perché se io compro il 25% che faccio? All'inizio, vado a vedermelo in vetrina, mi scelgo il modello e poi me lo compro di là, come fanno i nostri figli, io ho una figlia di 21 anni che compra su ebay, pure un altro polsale per la cucina, compra tutto su ebay, come faccio? Sta sempre lì a comprare, allora attenzione, cerchiamo di capire che questo fenomeno, io mi ricordo che mi occupavo di un altro mestiere a quegli anni fa, c'era il tema delle agenzie di viaggio, le agenzie di viaggio sapete che sono di fatto sparite rispetto al numero che c'è, perché ormai sono soppiantate, ce ne sono poche di qualità, fanno un servizio di nicchia, una volta c'erano le reti di agenzie di viaggio, sparite tutte, e che succede qua sul retail se tra dieci anni, la generazione di dieci anni compra tutto su internet? Io ho visto la base logistica di Amazon, non so se qualcuno l'ha vista, quella nuova in Italia, là dalla lavatrice a lì, io pensavo che vendessero, devo dire che sono ignorante, pensavo che vendessero i libri, che li vendessero tutti, le lavatrici, cioè, allora, occhio, qui c'è un tema probabilmente di rinventare il nostro mestiere, infatti, una specie di sforzo di fantasia, che probabilmente l'amico Guglielmo, che è sempre molto attento, che è l'unico che tenta di animare un dibattito culturale, far girare i neuroni, non solo i nostri che forse girano abbastanza, ma anche quelli di qualche altro, qui forse noi dobbiamo rinventarci un mestiere, Sì, lui ha un centro commerciale ottimo in vendita, è bellissimo, lo venderà, 10 milioni più, 10 milioni meno, 30 milioni meno, non lo so, insomma, però lo venderai, non è un problema, lo venderai, non è che non lo vendi, perché ci darà sempre, però, forse noi dobbiamo ripensare, probabilmente, che un mestiere nostro, non è inventato, non stare il tema delle riserve tecniche di assicurazione, come dicevi tu, è un vincolo, qualcosa dovrà prendere, però lui starà molto attento in quello che prende, tanto vuol pagare il 50% di quello che tu gli chiedi, e quindi già siete, e questo, quindi, io credo che uno sforzo enorme sia quello di rinventare il nostro modello di business, dopo il modello esplosivo, dopo un modello, e devo dire, non l'ho disegnato, anche perché in questi mesi sono stato dietro a una cosa molto complicata, non so neanche se è chiuso o non è chiuso, insomma, però, più guardo, più vedo in giro, più vedo i nostri edifici obsoleti da riqualificare, e più vedo, quindi, c'è un tema, c'è un tema proprio di capire il nostro mercato dove va, il nostro mercato dove va, poi non è che tutti siano tanto più bravi di noi, hanno forse dei contesti diversi, io sono andato in Olanda, tra voi, sono andato a vedere dei palazzi usufisici, perché abbiamo un ufficio olandese da vicino, completamente vuoti, quindi non è che il mercato è il mercato in Germania, non è, certo, devo dire, le residenze tedesche ce le strappano dalle mani, al 7% l'ordo, le residenze tedesche ce le strappano dalle mani, in Italia la residenza si rende il 2%, perché tutti pensano che aumenti di prezzo all'infinito, andate a vedere che c'è in giro, quindi il problema, allora, per riportare, per concludere, visto che devo dire, ho trovato veramente interessanti gli interventi che ho sentito, per concludere un po' le mie riflessioni, ritorno agli investitori, occhio, prima di tutto ci sono i fondi speculativi di varia natura, e genere, io per un anno ho fatto l'advisor di un fondo abbastanza sommerso, devo dire, colto delle opportunità straordinarie in Italia, tutte di stress e di seller, non di stress e di asset, opportunità assolutamente straordinarie, scontinav 70%, e quindi, questo è il primo punto, secondo punto, i gestori, i gestori, avendo amministrato per dieci anni un SGR, dove ho fatto l'errore, tanto il pubblico, e dichiara di lasciare dentro i soldi ai fondi, pensando che andassero in qualche modo, oggi i gestori italiani andrebbero ammazzati tutti, cioè, nel senso che, non hanno capito che, nel momento di difficoltà, la difficoltà non può essere solo dell'investitore, cioè, non è che tu allungandoti i fondi, lasciandoti le commissioni invariate, o non vendendo quando puoi vendere, perché poi l'investitore se lo ricorda, come io ci dava qualcuno prima il morso del cobra, cioè, l'investitore se lo ricorda, cioè, attenzione, qui bisogna cambiare proprio il profilo, mentre il regolatore è molto attento, che mette le virgole dritte, però, se fotti un investitore, veramente, devo dire, per lui è un non problema, qualcosa che non capisco concettualmente, però, evidentemente, è giusto che sia così, non lo so, e, cioè, noi abbiamo un problema di gestori, i nostri gestori, come dicevate prima, anche voi, hanno dei, adesso io faccio l'investitore, ho un gestore in un'altra parte, quello mi dice, proroghiamo i due anni, ma perché, ma perché è meglio così, no, scusa, proroghiamo il fondo alfa di 18 anni, non so se qualcuno di voi, il 5 agosto, è stato prorogato un fondo retail di 18 anni, come 18 anni? Io ho i soldi dentro, 18 anni sono morto, forse mia figlia sarà viva, 18 anni, no, ma allora, facciamo un ricorso, allora lo proroghiamo di 6, no, scusa, di 6 o di 18, qual è la strategia? Allora, se noi abbiamo dei gestori così, che sono tutti cresciuti sull'onda del boom, e non colgono una complessità, a cui per esempio sono giustamente più attente, le società di gestione, le compagnie di assicurazioni, che sono captivi, quindi non colgono le complessità, le esigenze dell'investitore, ma noi dove li prendiamo l'investitore? Quindi, quei segnali che noi dobbiamo dare, di ridefinizione del prodotto, e qui ci vuole proprio uno sforzo, forse probabilmente, del tema di un tuo prossimo convegno, ridefiniamo il prodotto real estate in Italia, ridefinizione del prodotto, di darci regole, ma non di, diciamo, ma che sono dei ladri, non è che vendono gli immobili e rubano i soldi, non è quel problema, è proprio di egoismo rispetto all'esigenza degli investitori, io è società, gestione e risparmio, quindi deve, ma attenzione, l'ho trovata anche in prelios, la stessa strategia, non è che una sia un'altra, di uno ne sono vittima, pro tempore, però a questo punto, ma la trovo da tutte le parti, anzi ieri un SGR, il quale non ha avuto mai nulla a che fare investire, ho chiamato, scusate ma ci ridate la cassa, assolutamente sì, tra tre giorni vediamo la cassa, siete gli unici in Italia, perché tendono a tenere i soldi, a rinvestire, eccetera, non va bene, perché questo sull'investitore estero, poi impatta in un modo devastante, quindi, ridefiniamo il prodotto, ridefiniamoci le regole di ingaggio per gli investitori, e purtroppo, nei limiti del possibile, capiamo anche, quello è il mercato, attendere degli inquilini, perché se le società che affittano immobili, adesso parliamo un attimo del terziario, le avevamo in residenziale, che necessiterebbe di una settimana di analisi, come aprire un mercato residenziale in Italia, che non può essere la swing sociale, che sono diventate ormai le case popolari, di una volta, gli hanno cambiato nome, un po' più nobile, ridefiniamo il mercato, cioè, gli inquilini oggi, la prima cosa che faccio, durante l'immobile, la vedete, il bilancio dell'inquilino, il suo piano strategico, se c'è un piano strategico, perché se vuoi, quello se ne va andando dopo, per causa di forza maggiore, eccetera, di vittime, ce ne sono tantissime, allora, non è una situazione facile, c'è un mondo che vive, c'è una fantasia, che dobbiamo mettere in campo, purtroppo, non siamo assistiti dal, dal grande fratello, dallo Stato, perché, sappiamo, oggi hanno fatto il governo, non lo so, hanno fatto, non lo fanno, nessuno, non si fa, non lo so se si fa, questo è un altro tema, non abbiamo uomini di mercato dall'altra parte, questo è un altro tema, quindi, diciamo, investitori esteri, ti vengono a chiedere, poi ti dicono, poi alla fine, ma sa l'Italia, in questo momento, eccetera, e ribadisco questo concetto, ridefiniamo un nostro prodotto real estate, cioè, che cosa rappresentiamo, che cosa rappresentiamo, voi avete visto che al Mipim, l'unico attivista pubblico che c'era, era il sindaco di Torino, che si agitava, tutti gli stand, parlava, veniva, eccetera, io altri non ne ho visti, non so se forse, forse mi sono sfuggiti, però non ne ho visti altri, c'è proprio un mondo diverso, c'è proprio un mondo diverso, rispetto agli altri, quindi una sensibilità di prodotto, di situazione, quindi io dico, dobbiamo ridefinire il prodotto real estate, qual è il nostro prodotto? Gli uffici di periferia, una volta pensavamo di affittarli a 280 euro a metro quadro, ma quando mai? Oggi io ne offro 180 per la sede nuova di Predios, prendiamo Predios, e quello ne offro da 280, forse gli ne offro 150 alla fine, no, no, ma ho capito, se gli sta fermo 5 anni, l'immobile va in malora, ha preso 5 anni di affitto, io dico che l'immobile è come le barche, se tu hai la barca abbandonata dentro un porto, non mi costa, non ti costa, quella dell'immobile ormai deprime con la velocità del fulmine, quindi ridefiniamo il prodotto, capiamo che ormai qualcuno il bagno lo ha preso, saranno i fondi, andiamo sui gestori a essere più committed, perché se io perdo il 50% del NAV, non puoi pensare che prendi anche il 2% di commissioni, c'è qualcosa che non funziona, e probabilmente con queste attenzioni con queste attenzioni riuscivamo a ristabilire, a ristabilire un minimo di mercato, perché tutti quanti rilevate una situazione, poi ho concluso, io ho due indicatori dell'economia del paese, i tassisti e i notai, ieri parlavo con un tassista, allora i tassisti romani facevano 3 anni fa a media 280 km al giorno, adesso ne fanno 110, i tassisti milanesi facevano il 30% di meno, perché Milano è più corto, allora il tassista è un indicatore spaventoso dell'economia, perché quando vedete la fila di taxi, vuol dire che l'economia non gira, la gente non prende i taxi, non va in giro, non fa niente, e il notaio è scontato, sapete che i notai hanno i protocolli, nel protocollo c'è anche l'autentica del certificato, però il numero del... allora in questo momento i notai, i protocolli dei notai sono crollati al 5% di per sé, i tassisti fanno la fame, fanno veramente la fame, quindi sostanzialmente l'economia ormai non gira più, poi scusate, la banalizzo molto, però sono gli indicatori che uno percepisce giorno in giorno, quando non trovi un taxi a Milano o a Roma, vuol dire che tutti girano, e tutti spendono, oggi il taxi arriva in due minuti, e ne trovi le fila, allora devo dire, cerchiamo in questo contesto, con lo sforzo di tutti quanti, di ridefinire il prodotto, migliorare le regole, quindi anche chi di voi è investitore, come chi è gestore, si deve fare un tavolo, ripeto, ti sto dando una serie di temi, ridefiniamo le regole per gli investimenti, e poi capiamo che il bagno di sangue qualcuno l'ha preso, l'ho preso io, ho comprato un fondo, c'è un nav di 3 mila, l'està a mille, l'hai preso tu, hai comprato un centro commerciale, non so dove, a 50 milioni, oggi te ne offrono 20, e dici, ma io ce l'ho a 50, i tedeschi mi uccidono, ho capito, però così è andata, la Repubblica di Marmela sono falliti, la Germania è fallita due volte, l'Italia non ancora, quindi voglio dire, ci abbiamo lamentato, quindi scusate, è argomento che magari un giorno ci dovrebbe organizzare un weekend, non salottiero per parlare, perché poi ognuno di noi può dare un'idea, uno spunto, un contributo, ho sentito parlare del fondo debito, io lo proposi a Generali tre anni fa, di fare il fondo credito, credo che adesso lo stiamo facendo, con tutte le regole, prima l'aveva fatto AXA mi pare, il primo che era partito era di AXA, raccolse oltre 2 billion su questo fondo, quindi l'abbiamo proposta ai cinesi, un anno fa, perché le banche cinesi possono investire qua, eccetera, alla fine posso dire, abbiamo fatto gli investimenti di debito in Inghilterra, e c'è nel 18%, perché poi uno dei vantaggi del fondo debito, è che non sei taggato sul fatto dello strozzinaggio, lì dell'usura, quindi ci sono dei vantaggi, allora, li definiamo, un po' di fantasia, i prodotti, concludo dicendo sullo tema banche, di cui ritengo di avere, le banche non è che hanno grandi patrimoni, perché attenzione, c'è un problema diverso, le banche hanno delle agenzie che devono chiudere, punto, allora, o tu vendi, adesso per esempio, a un noto fondo daranno 500 milioni di agenzie, ma vanno tutte chiuse quelle, allora, o quell'agenzia, il giorno che è chiuso, trovo un signore, che ci apre un'attività commerciale, e io in questo momento sono molto perplesso, trovare uno che poi mi paga l'affitto, va bene, oppure, attenzione, le banche, grandi patrimoni da vendere, non hanno più in Italia, non ne hanno tanto, non ne hanno tanto, le grandi banche si sono già spogliate, con 3-4 operazioni, hanno i patrimoni repossessed, questo sì, io ho visto i patrimoni repossessed, e li avete visti anche voi, ma vi prendereste il capannone Ascoli, piceno, magari anche pieno di amianto, ma sapete quanti ce ne hanno questi? Allora, qui il problema è un altro, se noi vediamo sul giornale, in questi giorni, gli dice, ah, ma gli immola, Banca d'Italia, mette, penalizza le banche, eccetera, ma io ho visto 3 società di leasing, di patrimoni repossessed, e dell'area non ci cavi niente, non ci cavi niente, perché le cose buone le hanno vendute subito, e gli sono rimasti miliardi, miliardi di asset assolutamente, quindi qui è da ripensare il prodotto immobiliare, perché per me il capannone Ascoli Piceno, cito il capannone Ascoli Piceno, ma va bene pure a Forlino, non cambia niente, solo perché mi ha colpito, e poi dice, ah, ce l'abbiamo a 12 milioni, un bellissimo capannone di 15 mila metri quadri, ho detto, no, voi ce l'avete a meno, perché c'è l'amianto dentro, vi costa di manutenzione, dovete pure tagliarci l'erba, se non vi va a fuoco, eccetera, che ci fate di sta roba, voglia spiegare a quello, allora quando vediamo che rischiano le banche, vanno in default su questo sistema, il tema è vero, allora senza, io ho pochi capelli, quindi non mi posso neanche strappare, senza strapparsi i capelli, come facciamo questo mestiere, ridefiniamo il prodotto immobiliare, ridefiniamo le regole, cerchiamo di capire, chi ha preso il bagno di sangue, è come se avesse comprato le Monte Paschia, 5.10, 4 anni fa, e oggi se le trova a 0,20, e qui a comprare da 5, se le trova a 2,5, e si stia contento per questo, quindi vendi i tuoi centri commerciali, purtroppo perdendo un po' di soldi, grazie.